Mercato Juve, arriva il primo grosso regalo di mercato per Sarri Tra mille nomi e altre tante suggestioni, il calciomercato della Juventus sta pian piano prendendo forma. Dopo l'annuncio e la presentazione di Maurizio Sarri, ora è tempo di consegnargli una rosa all'attezza delle ambizioni di società e tifosi. Paratici e Nedved sono in continuo movimento e alla ricerca dei profili giusti, sondando in lungo e in largo sia il mercato nazionale che quello internazionale. La dirigenza bianconera infatti è molto attiva e lavora su più tavoli e uno di questi, proprio nelle ultime ore, è diventato bollente. Stiamo parlando della pista che porta ad Adrien Rabiot, in rotta col PSG dal quale si svincolerà a parametro zero tra pochi giorni. Stando a quanto circola in orbita Juve, l'accordo è ormai in dirittura d'arrivo. Come confermato anche da Calciomercato.Come infatti, la mamma agente di Rabiot avrebbe detto di sì all'offerta contrattuale di paratici da circa 7 milioni di euro a stagione. Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto dunque, il centrocampista francese classe 95 sarà un nuovo giocatore della Juventus e, di fatto, anche il primo regalo di mercato per Maurizio Sarri che ne apprezza molto le qualità e le caratteristiche. Attenzione però, perché la questione non finisce qui. Già, perché l'approdo a Torino di Adrien Rabiot non escluderà affatto anche un altro supercolpo a centrocampo, reparto che la Juve vuole rifondare e rinforzare molto, visto che è di cruciale importanza per il gioco del nuovo allenatore. Ecco perché la dirigenza bianconera, come anticipato poco fa, continua a muoversi anche su molte altre piste importantissime, l'obiettivo è consegnare a Sarri un centrocampo atomico. Futuro da decifrare per Quadrado, le pretendenti. Quadrado potrebbe lasciare la Juventus in estate, il colombiano sarebbe seguito da un folto numero di squadre. Si profila un'estate caldissima per Juan Quadrado. L'esterno della Juventus infatti non sembra rientrare nei piani della società in vista della prossima stagione. Dopo essere approdato alla Continassa nell'estate del 2017, il colombiano potrebbe fare le valigie e proseguire altrove la sua carriera. A 31 anni compiuti, l'ex Fiorentina vanterebbe un notevole seguito sia in Italia sia all'estero. Inter e non solo su Quadrado, la richiesta dei bianconeri. Quadrado potrebbe lasciare la Juventus durante il prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riferito dal portale DonBalon.com, il colombiano sarebbe uno dei profili presenti sul tacquino di Marotta, in quanto assai gradito all'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri potrebbero provare a chiudere con la Juventus sulla base di 15-20 milioni di euro. Oltre che dal club di Appiano Gentile, Quadrado sarebbe seguito con interesse anche da Napoli, West Hamina a Castle. I nerazzurri potrebbe essere la Juventus.